Allora, cosa ci dicono noi? Basta, basta di questi processi, basta parlare del passato, basta condannare, questi sono tutti vecchi, basta, basta, perdonate, riconciliatevi. Ebbene, in Argentina, non è in tutti i luoghi lo stesso, ma in Argentina c'è una decisione presa dagli organismi di diritti umani, appoggiata finora, almeno dal governo, non sappiamo nel futuro, ma noi non perdoniamo. Chi mai ci ha chiesto perdono? Anzi, quando hanno il diritto di parlare nei processi, rivendicano gli accusati tutto quello che hanno fatto e lo rifarebbero di nuovo e non ci riconciliamo, perché abbiamo delle ferite che non chiudono. E quindi noi non ci riconciliamo. E ce lo continuano a dire, cioè ormai all'esempio del Sudafrica, ci sono dei paesi in Sud America che dicono, beh, ma ormai basta, modifichiamo. Noi per ora abbiamo questa cosa ferma, non perdonare, ma perché? C'è un motivo, perché noi consideriamo che la giustizia va fatta, perché della giustizia viene molto fuori la verità e perché se non si fa giustizia c'è l'impunità e l'impunità fa sì che qualsiasi persona, qualsiasi organismo civile, militare, può pensare di rifarle queste cose. E queste cose che si sono fatte, Shoah, genocidi razziali, genocidi ideologici, politici, tutti si fanno prima con dei piani dei progetti fatti a tavolino. Non sono l'idea di un pazzo, no. Si studiano e si portano avanti questi progetti terribili, micidiali, crudeli. E allora cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo che vengano giudicati e condannati. E abbiamo avuto, gli storici lo sanno e basta andare su internet per sapere come si è svolto, abbiamo avuto prima un presidente che ha organizzato un comitato per ricevere le nostre accuse, poi c'è stato un primo processo per i sommi capi delle giunte, sono andati in prigione, poi è venuto un altro presidente che ha messo tutti in libertà, quindi li vedevamo per le strade e poi sono venuti anni di impunità. In quegli anni di impunità in qualche paese, tra cui l'Italia, ci sono stati dei processi che però non avevano gli accusati in sala, con le udienze, è andato tutto come doveva andare, ci sono state le condanne. E tutto questo che sembra che non serva a niente, sì, sì, è servito. È servito perché molto materiale si è raccolto. Finalmente abbiamo di nuovo l'aiuto di questi ultimi governi e possiamo, noi, non il governo, noi, abbiamo la possibilità come cittadini di chiedere, di esigere che queste leggi fossero revocate attraverso il Parlamento, cioè i mezzi della democrazia. Le leggi vengono revocate e i processi cominciano. Sono lenti, ce ne sono in tutto il paese, ci sono moltissimi accusati, molti, e questa giustizia che noi cerchiamo di fare, e in buona parte si sta facendo, è già fatta, non è solamente per i militari. E questo è un nodo duro, per cui la cosa va avanti, ma con molta opposizione. Ed è questo, è stato un golpe dei militari civico-militare, una dittatura civico-militare, perché a spingere sono stati i civili, i civili, i terratenenti, i grandi poteri economici, nazionali ed internazionali. Gli interessi hanno mandato avanti questo colpo di Stato e questa dittatura è quello che questa dittatura ha fatto. E perché? Perché non volevano assolutamente che si realizzassero i sogni e i progetti dei nostri figli, di questi militanti, la maggior parte giovani. Che cosa volevano? Un mondo migliore e più giusto, uguale per tutti, con le stesse opportunità per tutti. Cose che, da tempi memoriali, memoriali delle nostre civiltà si desiderano, ma che alla fine si raguniano a volte in parte, poi si dimenticano, ma non ci si è arrivati ancora a questa giustizia sociale, purtroppo. Ebbene, non li volevano a questo. Allora hanno spinto i militari. I militari in Argentina erano abituati a fare i colpi. Era facile, ma facciamo colpo di Stato. Così l'hanno fatto, però questa volta è stato tragico. Tragico perché questa generazione è stata in buona parte, non direi soppressa del tutto, ma in buona parte. Questo è stato. E noi vogliamo la giustizia e consideriamo che la giustizia è ultra necessaria. E si sta facendo in Argentina, lenta. E noi che siamo stati pazienti in tutti, che nessuno si è fatto giustizia per mano propria, siamo pazienti anche adesso. Perché aspettiamo quella giustizia, quella dei tribunali. Quella lì. Che è quella necessaria. In Italia sono stata testimone nei processi che si sono fatti in Italia e l'anno scorso sono stata testimone finalmente in Argentina. Ti dirò che loro racconto sempre ai ragazzi nelle scuole che è stato un esame difficile, questo l'ultimo. Come diciamo un pochino di più che l'esame della maturità. Ma esame. Mi ci sono preparata benissimo. Ho detto tutto quello che dovevo dire e ho chiesto giustizia. Quello che si deve fare. E quindi sono stata testimone. E allora mi domandano. E cosa vuol dire essere testimone? Com'è? Dove... Guarda, tutti i testimoni, tutti gli esseri umani mai sei totalmente imparziale. Quindi sta attento, ascolta più voci, informati, ci sono gli archivi, studia, fai delle ricerche e poi col tuo cervello prendi tu la tua posizione. Però non fidarti mai di una sola voce. C'è lo spirito critico che ti deve portare avanti il tuo cervello e socializzarlo con quelli che stanno con te. E così è molto importante essere testimone nel tribunale, nella vita e soprattutto verso i giovani che vanno avanti e che speriamo portano avanti quello che è stato il tuo impegno e quello che consideri che è importante che continui ad essere un impegno affinché i cittadini, e questa diciamo la vostra regione, che è anche un po' la mia in un certo senso, anche se sono milanese, ebbene io credo che è la regione della cittadinanza questa. In Italia è la regione della cittadinanza, dove hanno dimostrato nella resistenza, nei secoli, nelle città, nelle campagne, dappertutto ci sono stati dei buoni cittadini. Ebbene, allora speriamo che così vada avanti. Grazie.